Abbiamo in queste tre giornate fatto quello che noi diciamo sold out, nel senso che abbiamo raggiunto il numero massimo di iscrizioni possibili, tenendo conto delle capienze delle aule. E quindi abbiamo dovuto sdoppiare alcuni corsi di studio per il grande interesse che c'era. Sono in tanti un vero e proprio esercito, in parte da fuori regione. Sono gli studenti dell'ultimo anno delle superiori che partecipano al campus di Piazza L'Europa alle giornate di porte aperte dell'Università di Trieste. Da oggi fino a venerdì. Un aiuto ai ragazzi per una scelta consapevole e ponderata dell'Ateneo dove andare a studiare e del corso che può consentire loro di ottenere un titolo di studio con valore spendibile professionalmente. Ciò che colpisce dopo due anni di modalità online è la voglia dei ragazzi di partecipare in presenza agli eventi orientativi. Secondo me la presentazione è necessaria soprattutto per capire più che altro cosa studiare dopo. Anche perché dopo aver seguito la presentazione ho capito che non è proprio l'ambito in cui magari vorrei applicarmi, però infatti verrò anche venerdì per vedere anche le altre scuole aperte e vediamo. La presentazione del corso di psicologia lo trovo uno sbocco utile per quello che mi piace fare, professori tutti molto capaci, molto interessanti, bravi. Siamo veramente contenti di vedere tanti ragazzi, qui ci sono quelli appunto di medicina e delle lauree sanitarie ma negli altri edifici ci sono altri ragazzi così come sarà nelle prossime giornate. Siamo contenti di questa presenza e credo che i ragazzi siano contenti di poter vivere questa esperienza universitaria magari anche solo per poche ore, ma toccare con mano e capire per poter poi scegliere meglio. La giornata odierna era dedicata all'orientamento nell'area delle scienze della vita e della salute, qui vediamo gli studenti interessati a medicina e a psicologia. Domani tocca all'area tecnologica e scientifica, venerdì alle scienze sociali e umanistiche.